office 365 2 euro 66 centesimi al mese ma se prendi quello da tre mesi e sparmi veramente un sacco 8 euro per tre mesi quindi in questo caso come puoi vedere le persone qua stanno comprando office un giorno fa 37 minuti fa 1 ora fa 4 ore fa 6 ore fa e ovviamente office su gams go è veramente pazzesco ma su gams go non solo compri office 365 ma puoi anche comprarti spotify netflix youtube disney plus paramount plus e quindi in questo caso quello che devi fare è andare in descrizione ti ho lasciato questo link entri su questo link accedi così con il tuo account e ovviamente mi disconnetto per farti vedere come funziona faccio con successo faccio accedi ti consiglio di accedere direttamente con un account google perché quando andrai a comprare così il servizio ti manderanno per via email le credenziali quindi l'account e la password tu le metti direttamente sulla piattaforma e hai fatto entri nella piattaforma e ti godi la piattaforma vai su google accedi con qualsiasi account google che vuoi io accetto con questo faccio continua ovviamente se tu clicchi su questo link con l'account che hai fatto l'accesso per esempio io chiudo questa pagina clicco di nuovo su questo link ed eccolo qua con il codice promozionale quindi in questo caso vai sul tuo office 365 eccolo qua acquista adesso 3 mesi hai un codice promozionale il codice promozionale è questo che vedi sullo schermo e vai al pagamento una volta fatto ti arriverà tutto per via email quindi vai sulla tua email gmail questa qua e lo troverai direttamente sulla tua email c'è l'account e c'è la password e fai direttamente l'accesso sulla piattaforma per problemi per problemi commenta sotto al video oppure entra nel server discord e puoi direttamente chiedere a me quindi ovviamente come puoi vedere io avevo comprato un bel po' di servizi su gamsgo tu vai sul tuo logo vai su il mio abbonamento e una volta comprato quell'abbonamento ti uscirà qua sopra quindi questo è il mio abbonamento metti così il nome utente che ti ha dato direttamente gamsgo e clicchi sul tuo profilo che ti dice gamsgo quindi se vai sulla piattaforma ovviamente ci saranno altre persone vicine a te però tu dovrai cliccare il tuo profilo come puoi vedere a me c'è il logo con toni vedi e clicchi su quel profilo non è niente di difficile quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao